Un attimo di fregua, come ancora Siena, Sandri, buono spazio, un tiro aperto, stavolta Rieti nel processo del pandone, e il suo problema è iscriversi a questa partita. Prima di questa gara gli ho detto, la senti, questa gara è più finita. E' l'asso, l'opera, occhio, una severa, si va a prendere questo tiro, lo step back, un tasso, esatto, un tasso, esatto, quindi non fatene pure, per la città, 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 per la città, 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 la c Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti